ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco sefiryur talk 401 a cosa serve sefiryur talk 401 a un parafarmaco appartenente alla categoria degli polveri fondotinta i basi per il trucco viso è commercializzato in italia dall'azienda sirio srl informazioni commerciali titolare sirio srl concessionario sirio srl categoria di appartenenza polveri fondotinta i basi per il trucco viso confezioni sefiryur talk 401 polvere compatta universale 9g sefiryur talk 403 polvere compatta universale 9g sefiryur talk 406 polvere compatta universale 9g sefiryur talk 408 polvere compatta universale 9g indicazioni polvere compatta universale modalità d'uso applicare il fondotinta con la spugnetta in dotazione picchiettando anche nelle zone più difficili come mento fossi nasali e fronte descrizione e caratteristiche è un prodotto multifunzionale da portare sempre con sé per creare in pochi istanti un viso luminoso omogeneo e levigato utilizzando tre livelli di applicazione spugna bagnata ottimo fondotinta luminoso e coprente a preferibile bagnare la spugnetta con un tonico spugna asciutta per un finish moderatamente coprente pennello per un finish naturalmente coprente o per un veloce ritocco il comfort assoluto sulle diverse zone del viso sulla zona t fronte naso e mento solitamente più a oleosa garantisce una tenuta impeccabile grazie ad agenti sebo assorbenti sulla zona v guance e zona perioculare più delicata esercita un'azione emolliente protettiva e antidisidratante grazie alla presenza di fosfolipidi di soia e olio di calendula accessorio in dotazione spugna ipoallergenica latex free double face lato spugna da usare bagnata lato fioccato da usare asciutto caratteristiche azioni polvere compatta massima praticità polveri micronizzate tre livelli di applicazione agenti sebo assorbenti tenuta e capacità nella zona t fosfolipidi di soia e olio di calendula protezione ed emollienza nella zona v fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato